giulia dell'ellis è una bella girl è una girl che appare in televisione io non sapevo nulla di questa giulia dell'ellis ne vengo a sapere ora qualcosa leggendo un articolo sul web e questa giulia dell'ellis aveva una relazione con un boy poi si sono separati perché dice che questo boy ne metteva le corna e dopo un periodo di separazione si sono riuniti per cui ora questa bella girl è anche abbastanza famosa da quel che posso leggere ora questa bella giulia dell'ellis viene accusata di incoerenza di incoerenza perché avrebbe detto io con quello lì non ci sto più la storia è finita invece c'è ritornata c'è ritornata allora lei giulia dell'ellis ha detto che le corna le corna li perdite fanno male lei parla come donna li perdite fanno male ma poi le puoi superare e quindi è nato il discorso sulle corna le corna beh cara giulia dell'ellis e cara giulia dell'ellis tu ti devi chiedere perché si dice cioè l'aggettivo cornuto cornuto e lo si usa per gli uomini non lo si usa per le donne giulia dell'ellis giulia dell'ellis cara l'hai letta quest'opera giulia dell'ellis mi raccomando comprane subito una copia e leggila quest'opera che ti farà bene di solito si arbitro cornuto si dice arbitro cornuto la donna non si dice di solito la donna che è cornuta non si dice di solito l'aggettivo cornuto lo si applica gli uomini di solito è così e poi può capitare pure che si senta dire ma quella donna lì è cornuta ma sono e ti spiego perché e ti spiego perché perché già nell'antica roma si diceva che la maternità è sempre certa la paternità non è sempre certa cioè ti voglio dire cara giulia dell'ellis che prendiamo due che si che si sposano marito e anche se non si sposano se sono conviventi non ha importanza se lui il marito esce e va con l'amante quando lui il marito che è andato con l'amante poi torna in casa dalla moglie lui non è mai incinto invece la moglie se esce di casa e va con l'amante quando lei la moglie torna in casa torna in casa dal marito può essere incinta può 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 essere incinta capito mentre non capita mai con lui col marito quando il marito va fuori di casa e va dall'amante il marito poi quando torna in casa non è mai incinto e invece se questa cosa la fa la moglie quando la moglie quando torna in casa può essere incinta capito beh cara 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 ragazza cara girl leggi subito quest'opera così capirai come stanno le rosse capito cara io ti voglio tanto bene cara a te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni